E' ancora in fase di definizione ma sembra già avere le idee chiare. Parliamo del comitato possibile che sta muovendo i primi passi a Tortora. Il nuovo soggetto politico locale, parte dell'ampio progetto nazionale promosso dall'ex deputato del PD Pippo Civati, sta coinvolgendo soprattutto i giovani di Praia Mare e Tortora. Nel fine settimana il comitato tortorese ha organizzato la raccolta firme per l'indizione dei referendum abrogativi che riguardano le riforme del governo Renzi su scuola, legge elettorale, ambiente e lavoro. Nello specifico i cittadini sono chiamati ad esprimersi su otto quesiti tra cui l'eliminazione delle chiamate dirette dei docenti da parte dei dirigenti scolastici, i licenziamenti illegittimi e il carattere strategico delle trivellazioni in mare. Ma al di là dei referendum l'occasione è stata propizia per scendere fra la gente laddove il comitato possibile Tortora, Praia Mare vuole agire. Il primo obiettivo reale è portare i giovani a riscoprire il fatto che la politica è una bella cosa, non vuol dire semplicemente accordi, trame, cose alle quali oggi le persone associano naturalmente la parola politica. Bensì politica vuol dire occuparsi del proprio territorio, stare in mezzo alla gente, parlare con le persone, capire quali sono i loro bisogni e cercare una risposta che coordini i loro bisogni con i bisogni che poi sono della società. Per farlo noi abbiamo messo insieme un gruppo di ragazzi giovani, altri ancora spero saranno interessati ad unirsi a noi, siamo su Praia e Tortora con questo nuovo comitato dell'associazione possibile lanciata da Pippo Civati a livello nazionale. Anche nei prossimi giorni ognuno potrà firmare i moduli nel proprio comune di residenza. Intanto il comitato è pronto anche con altre iniziative, questa volta a livello locale.